Questo dato del PIL del primo trimestre crediamo che troverà conferma nei trimestri successivi e naturalmente la dimensione di questa crescita è un elemento fondamentale nell'accelerazione degli investimenti. Abbiamo molto enfatizzato il ruolo degli investimenti sia economici ma anche in capitale sociale e come messa a frutto del capitale di cultura che abbiamo in questo Paese.